Musica Cos'andro a mancare il peperoncino? Sembra banale, però mi piace tantissimo Guardo quello che compro, guardo gli ingredienti Mangiare un po' di tutto Musica Deve essere tutto ordinato e poi devo preparare prima Devo usare quello, quello e quello, ma le devo preparare prima E stare sia salutista, ma anche fare ovviamente cibo che possa piacere Musica Regola d'oro è innanzitutto il libro da cucina Quello, il ricettario per me è fondamentale Musica